Oggi proveremo a raccontare, in modo sintetico ma speriamo significativo, quella serie di viaggi di esplorazione compiuti dal Portogallo e dalla Spagna tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500 che hanno portato l'Europa a scoprire nuove rotte commerciali e ad aprirsi a tutto il mondo e questa apertura dell'Europa verso il mondo rappresenta l'altro elemento determinante di passaggio dal Medioevo all'età moderna. Avevamo già detto che l'età moderna era caratterizzata dalla fine dell'idea di un impero universale in Europa e dall'affermazione degli stati nazionali. Ecco, adesso gli stati nazionali cercano di rafforzarsi, di diventare più competitivi dal punto di vista economico e quindi Portogallo e Spagna prima e in un secondo momento poi anche Francia e Inghilterra cercano di esplorare nuove rotte per scoprire e conquistare i nuovi mondi, come dice il titolo del capitolo. Quindi stiamo parlando di una visione del mondo che non è più limitata all'Europa ma dobbiamo iniziare a prendere contatto con civiltà extraeuropee e quindi vediamo già da subito nel nostro frontespizio quella che è la cronologia delle date essenziali di questa avventura, di questi viaggi di esplorazione, di questa conquista, di questa scoperta e poi conquista del nuovo mondo. Bartolomeo Diaz nel 1487 doppia il capo di Buona Speranza, poi abbiamo la data più celebre 1492, Cristoforo Colombo sbarca sul continente americano, poi abbiamo la conquista prima dell'impero azteco tra il 519 e il 21, poi tra il 31 e il 33 dell'impero inca. Quindi prima esplorazione, viaggi di esplorazione e poi conquiste. Vediamo chi sono i protagonisti dell'espansione europea, anzitutto portoghesi e spagnoli. L'avvio dell'espansione europea nel mondo fu caratterizzato da due correnti di esplorazione distinte, quella spagnola e quella portoghese. Come vedremo saranno due itinerari diversi e le due potenze si divideranno poi il globo terrestre come sfere di influenza. Gli spagnoli si mossero verso occidente, noi dovremmo prima parlare dei portoghesi in realtà, credendo così di poter raggiungere le coste orientali dell'Asia, ma la terra in cui approdarono era l'America. I portoghesi a loro volta, quindi prima ancora degli spagnoli, si indirizzarono verso i paesi affacciati sull'oceano indiano, che riuscirono a raggiungere circunnavigando l'Africa. Quasi accidentalmente però arrivarono anch'essi nel 1500 in America, sulle coste del Brasile, territorio di cui furono i primi a fornire delle rappresentazioni cartografiche, come quella che appunto avevamo visto prima, riprodotta, che risale al 1519. Allora diciamo subito una cosa prima di cominciare. Cioè il discorso dei viaggi di esplorazione è anzitutto legato al concetto di bussola, che noi avevamo già espresso parlando di Francesco Bacone, il filosofo inglese, che nel 1600 aveva individuato appunto nella bussola uno dei tre elementi, una delle tre invenzioni che costituivano l'inizio dell'età moderna, l'inizio della modernità. E di fatti la bussola è ciò che permette alle navi di viaggiare, di esplorare, di conoscere. Oltre alla bussola c'era anche la polvere da sparo, di cui poi parleremo, perché oltre che scoprire ed esplorare i continenti, si è trattato anche di conquistarli. Quindi mettiamo subito in evidenza come ci troviamo di fronte a un'avventura dal doppio volto, il volto dell'esplorazione e il volto della conquista. Quindi coloro che furono protagonisti di questa avventura sono stati di vario tipo, sono stati inizialmente esploratori, ma anche uomini in cerca di fortuna, avventurieri, ma poi ci sono stati anche missionari, gesuiti, ma anche uomini armati, soldati, che erano stati poi inviati dai re europei, dai sovrani europei. Quindi la bussola, la polvere da sparo e poi c'era stata la stampa, che era il terzo elemento di passaggio da Medioevo a Età Moderna. L'altra considerazione da fare in modo preliminare, subito prima di iniziare il racconto, è quello che forse avevamo già detto, la scoperta dell'America o comunque l'avvio di tutta una serie di viaggi di esplorazione di cui oggi parleremo, parte in un certo qual modo dalla conquista turco-ottomana di Costantinopoli nel 1453. Perché? Perché la conquista di Costantinopoli e la caduta dell'impero romano d'Oriente sono stati l'elemento che ha spinto i paesi europei, i paesi dell'Occidente Mediterraneo, quindi stiamo parlando di Spagna, Portogallo, ma anche Venezia, poi l'Inghilterra, la Francia, tutti quei paesi che attraversavano l'impero bizantino e Costantinopoli per giungere a Oriente, la lunga via della seta, i commerci con la Cina, con l'India. Ecco, le esplorazioni sono nate dall'esigenza di trovare delle vie alternative per giungere in Oriente e quindi si può dire che la conquista di Costantinopoli e l'affermazione dell'impero turco-ottomano siano stati la premessa di una serie di viaggi di esplorazione che hanno portato alla scoperta di nuovi mondi, quindi la ricerca di nuove rotte commerciali. L'affermazione dell'impero ottomano ostacola i tradizionali commerci tra Europa e Asia, in particolare con la Cina. I pirati poi, i pirati barbareschi erano così chiamati, cioè musulmani, rendono pericolose le rotte mediterranee. Ecco che il Mediterraneo non è più il centro del mondo, l'unico mondo, l'unico mare conosciuto, cioè il passaggio dal Medioevo all'età moderna e anche il passaggio dal Mediterraneo agli oceani, all'oceano Atlantico e Pacifico di cui stiamo per parlare. Quindi parliamo dell'Europa alla scoperta del mondo. Portogallo e Spagna prima, Francia e Inghilterra poi, iniziano delle esplorazioni spinte dal dinamismo commerciale, dalla mentalità umanistico-rinascimentale di cui abbiamo già parlato anche. Quindi quando noi parliamo dell'anche rivoluzione mentale che è il rinascimento, ovvero la Terra che non è più al centro dell'universo ma c'è il Sole al centro del sistema e quindi quella rivoluzione copernicana si riflette anche nel discorso geografico terrestre. Non è più l'Europa al centro o l'unico continente, ma noi abbiamo un mondo popolato di vari continenti e quindi la mentalità umanistico-rinascimentale contribuisce, insieme a queste motivazioni economiche di cui abbiamo parlato, a spingere verso la scoperta del mondo. C'è una revisione delle idee geografiche, c'è un progresso nella cartografia, nella bussola, noi abbiamo parlato della bussola, come vediamo, progressi nella navigazione, nella costruzione di nuove navi come ad esempio le caravelle, così famose per la spedizione di Colombo, e la bussola. Chi erano gli uomini che appunto furono protagonisti di queste avventure? Esploratori, ma anche conquistatori, e quindi la polvere da sparo di cui abbiamo parlato. C'è un doppio volto di questi viaggi di esplorazione, esplorazione ma anche conquista, fame di ricchezze per quello che riguarda i conquistatori, in spagnolo si chiameranno i conquistadores, ma anche conversione al cristianesimo. E convertire al cristianesimo per l'Europa che era unita sotto il segno del cristianesimo, e noi sappiamo nel conflitto che c'era stato fin dai tempi delle crociate con i musulmani, quanto l'Europa considerasse il cristianesimo come elemento distintivo della nostra civiltà occidentale, convertire i popoli extraeuropei al cristianesimo significava portare loro la verità, portare loro la civiltà, portare loro la felicità, e quindi non dominarli in maniera coercitiva, come però poi avveniva anche con le armi. Per cui diciamo che bisogna considerare una medaglia con due facce in questa conquista del mondo da parte dell'Europa. Vediamo un altro schema che ci riassume le motivazioni delle esplorazioni portoghesi, spinta verso le esplorazioni oceaniche. Sono tre tipi di motivazioni, se vogliamo schematizzarlo. Motivazioni culturali, lo spirito umanistico rinascimentale, di superamento dei limiti, questo era, che poi è legato a tutta una mentalità che portava l'uomo, per esempio, a costruire strumenti per modificare la realtà. Leonardo da Vinci è il primo personaggio che rappresenta questa nuova mentalità. Poi motivazioni tecnologiche, lo abbiamo detto, nuova tecnica navale che permetteva di navigare meglio in mare aperto. Fino a quel momento le navi viaggiavano all'interno del Mediterraneo, spingersi oltre nei viaggi oceanici, era veramente un po' come oggi viaggiare nello spazio oltre il sistema solare per quei tempi. E poi motivazioni economiche, necessità di acquistare prodotti di lusso in India e in Cina, l'abbiamo detto, quello ha spinto poi i viaggi di navigazione e di esplorazione, bisogno di nuovi giacimenti di oro e argento. Ostacoli nel Mediterraneo orientale, pirateria e dominio ottomano. Quindi iniziamo con le esplorazioni portoghesi. Quali sono i primi viaggi di esplorazione? Sono quelli che cercano di raggiungere l'Oriente passando, diciamo, sotto l'Africa, circunnavigando l'Africa. È chiaro che noi oggi sappiamo, conosciamo le dimensioni del continente africano, allora ancora no. E quindi i primi viaggi speravano di poter aggirare l'ostacolo ottomano passando intorno a un'Africa che si sperava fosse meno gigante. Quindi i portoghesi iniziano a cercare nuove rotte lungo l'Atlantico per trovare una via verso l'Asia che aggiri il Mediterraneo. Le esplorazioni sono finanziate dalla Corona. Tra poco vedremo i nomi e le rotte dei principali protagonisti. Il primo viaggiatore, il primo esploratore per conto della Corona portoghese è Bartolomeo Diaz, che raggiunge l'estremità meridionale dell'Africa, che lui chiamò capo di buona speranza, nell'87. Poi, dieci anni dopo, nel 1497, Vasco da Gama, altro esploratore, supera quel capo di buona speranza, procede e raggiunge l'India. Lo vedremo fra poco in una cartina che ci aiuterà meglio a capire. Quindi il Portogallo inizia, ricapitolando, 1487, capo di buona speranza con Bartolomeo Diaz. Vasco da Gama, che alla fine del 400 arriva sulle coste dell'India, grazie alla superiorità militare rispetto alle popolazioni indigene, riesce a, diciamo, fondare dei porti commerciali, come quello di Calicut, che è il più importante, sulle coste asiatiche. Ma come vediamo ora dalla cartina non solo a Calicut, ma in vari punti del sud e del sud-est asiatico. Ecco le spedizioni portoghesi tra XV e XVI secolo. Anzitutto abbiamo le prime spedizioni, come vedete, che dal Portogallo scendono giù verso la costa africana, quelle che prima si fermano, come vediamo, nel primo 400 i portoghesi arrivano nelle isole di Madera, Ceuta, in Marocco, poi le isole Azzorre, poi le isole di Capoverde, poi piano piano nel 487 Bartolomeo Diaz doppiò la punta meridionale con il capo di buona speranza. Poi Vasco da Gama, punto 3, come vedete, raggiunse l'India con Calicut, poi arrivò anche in Kenya e in Mozambico, vedete la cartina è molto chiara e dopodiché nel primo 500 i portoghesi si insediarono nel sud-est asiatico a Ceylon per proseguire addirittura verso Macao, lo vedete sulla costa meridionale della Cina, e il Giappone, arrivare fino in Giappone. Qui vediamo come nuove tecniche di navigazione aiutarono questi viaggi di esplorazione, ci fu il perfezionamento della bussola e dell'astrolabio, lo strumento che permetteva di guardare le stelle e attraverso questo strumento capire la posizione in cui ci si trovava rispetto alle costellazioni, avanzamento delle conoscenze matematiche astronomiche, diffusione di navi con il timone dritto di poppa, numerosi alberi e vele di diversa forma che favoriscono la stabilità e le manovre. La caravella ha molto successo. E quindi i primi viaggi sono stati quelli portoghesi, ma poi dobbiamo parlare della Spagna. Se il Portogallo in qualche modo domina tutta la zona africana e quindi controlla tutti i commerci lungo le coste africane fino all'India e al sud della Cina e al Giappone, la Spagna cerca altre vie, l'abbiamo detto all'inizio. Cristoforo Colombo vuole provare a raggiungere l'Asia attraversando l'Oceano Atlantico, quindi la famosa teoria per cui se la Terra è sferica allora non occorre passare sotto l'Africa per arrivare nelle Indie, così venivano chiamati i territori asiatici nell'estremo Oriente, ma si può circonnavigare la Terra e raggiungere, si sperava forse più facilmente la Cina e il Giappone, che è poi quello che Colombo è convinto di aver trovato. La Spagna finanzia la sua spedizione. Stiamo parlando dei re sovrani spagnoli, protagonisti della reconchista finale. Nello stesso anno in cui Colombo parte verso le Americhe, all'inizio dell'anno, proprio il 2 gennaio del 92, del 1492, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona hanno conquistato l'Emirato di Granata e sono gli stessi sovrani a finanziare la spedizione di Cristoforo Colombo, il quale con le sue tre caravelle, la nave ammiraglia era la Santa Maria, dove era Colombo, ma poi c'erano la Nalina e la Pinta, come si sa, giungono sull'isola di San Salvador, che è un'isola delle Antille, di fronte a Cuba, di fronte, diciamo, nel centro America, convinto di essere giunto in Asia. Dopodiché, a inizio del 500, Amerigo Vespucci, invece, che farà delle esplorazioni del continente, diciamo, centro-sud America, soprattutto le coste del Brasile, si rende conto che invece è stato scoperto un nuovo continente, che da lui prenderà il nome di America. Rivediamo nel dettaglio le date, le tappe fondamentali di questa avventura spagnola, dopo quella portoghese, America. Colombo, il 12 ottobre del 1492, dopo circa tre mesi di navigazione, giunge appunto sulle coste di quest'isola del centro America. Dopo Colombo, abbiamo detto che lui, dopo aver scoperto l'America, tornerà in Spagna, ma in realtà non ha scoperto l'America. Nel senso che anche qui si può aprire una questione sul concetto di scoperta. Volendo risalire alle origini proprio del continente americano, dovremmo dire, in qualche misura, che la scoperta vera e propria dell'America è stata quella che si è realizzata tra gli 11.000 e i 20.000 anni fa, quando le popolazioni, gli uomini, dall'Asia si spostarono, passando per lo stretto di Bering, quindi tra la Siberia e l'Alaska, andarono a popolare il continente americano. Quindi il popolamento dell'America è avvenuto circa 10-20.000 anni fa e quella è la vera scoperta dell'America, se vogliamo essere precisi. Dopodiché noi sappiamo che anche molto più avanti, nel X secolo d.C., i vichinghi riuscirono a insediarsi in alcune piccole colonie, piccoli insediamenti nel Nord America, senza però fermarsi lì, anche perché il clima era troppo freddo e quindi già i vichinghi erano riusciti a viaggiare dall'Europa verso l'America nel X secolo, quindi parliamo della fine dell'Alto Medioevo. Nel momento in cui Colombo arriva sull'isola di San Salvador è convinto di trovarsi in Asia. Ora, Colombo, tornato in Spagna, ripartirà più volte verso l'America, andando anche a conquistare tutto quello che trovava e si trovò anche in conflitto con la corona di Spagna, perché poi alla fine della sua avventura, nel 1506, lui muore ed era già morta Isabella di Castiglia, quindi nel corso degli ultimi viaggi entrò in conflitto con la corona spagnola perché fu accusato di aver approfittato del suo ruolo di amministratore, di governatore di quelle terre, ma si può dire che lui morì nel 6 senza sapere di aver scoperto un nuovo continente, ma convinto di essere arrivato sulle coste della Cina e dell'India. Invece, alcuni anni più avanti, Ferdinando Magellano cosa fece? Cercò invece di, una volta scoperto che si trattava di un nuovo continente, cercò di superare il limite di Colombo e di giungere in Asia attraversando appunto il continente americano, cioè circunnavigando il continente americano. Magellano scoprì il famoso passaggio a sud, nel 1520 la Terra del Fuoco. Tra il 19 e il 20-21 c'è stato questo viaggio straordinario dell'equipaggio guidato da Ferdinando Magellano, che vedremo tra poco nella cartina, il quale partendo dalla Spagna riesce a trovare il passaggio a sud del continente americano e quindi a passare dall'oceano atlantico a quello pacifico. Lo possiamo vedere ecco subito qui nella cartina e quindi il viaggio è quello in arancione sotto la Terra del Fuoco e attraversare quello che da lui prende il nome di Stretto di Magellano. Dopodiché Magellano giungerà nelle Filippine dove verrà ucciso dagli indigeni, ma i superstiti della sua spedizione giungeranno finalmente poi nel 21 in Spagna per realizzare la prima circunnavigazione del globo. Ora però dobbiamo concludere il discorso di queste esplorazioni con un accordo che si viene a formare tra Spagna e Portogallo. Abbiamo detto che il Portogallo prima e la Spagna poi sono protagonisti di questi viaggi di esplorazione. Una volta compreso che si trattava di un nuovo continente, il Papa Alessandro VI Borgia, che abbiamo già citato a proposito del nepotismo, emana una bolla, la bolla Intercetera nel 1493. In realtà questa bolla viene emanata dal Papa quando ancora non si è capito che ci si trova di fronte a un nuovo continente, perché siamo nel 93 e questo intervento del Papa è finalizzato a creare un accordo, una divisione del mondo in due sfere di influenza tra Spagna e Portogallo. Quindi attraverso l'intercessione di Papa Alessandro VI si giunge nel 1494 al trattato di Tordesias, con il quale che cosa succede? Succede che il globo viene diviso in due emisferi da una linea immaginaria che si chiamava la Raha, che andava a tagliare il continente sudamericano in due. Come vedete nella cartina, secondo il trattato di Tordesias, tutti i territori che si trovavano a ovest di questa linea immaginaria sarebbero spettati alla Spagna. Come vediamo nella cartina, quei territori erano il centro Sud America, fino anche a una parte dell'est asiatico. Però tutta la parte invece tra questa Raha che tagliava in due il Sud America, quindi comprendendo la parte più orientale del Sud America, cioè il Brasile, tutta l'Africa e tutta la parte dell'India e del sud della Cina, sarebbero spettati invece al Portogallo. Quindi in arancione le zone di influenza spagnola, in verde le zone di influenza portoghese. Portogallo e Spagna con il trattato di Tordesias si dividono il commercio in tutto il mondo. Lo vediamo qui nella leggenda, emisfero portoghese, emisfero spagnolo. Possedimenti spagnoli che vanno dal vicereame della Nuova Spagna, lo vedremo tra poco come si formano poi questi nuovi stati, queste nuove realtà politiche, mentre invece le aree di insediamento portoghese che costituiscono tutta la costa africana fino all'India e alla Cina. Ci sono poi le spedizioni spagnole, quelle appunto di Magellano che abbiamo descritto poco fa, poi le navi superstite di Magellano che vediamo con la linea tratteggiata che ritornano in Spagna, ma poi abbiamo tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500 anche dei tentativi da parte di Francia e Inghilterra di riuscire a compiere gli stessi viaggi. Allora l'Inghilterra e la Francia si occupano questa volta più del nord del continente americano e infatti quello poi sarà nella storia, quello che avverrà nella storia. Quindi Spagna e Portogallo andranno a occupare il centro-sud dell'America, mentre invece le spedizioni inglesi e francesi, possiamo riallargare la cartina per vedere i viaggi di esplorazione, sono quelli, vedete in blu l'Inghilterra, quella di Giovanni e Sebastiano Caboto, sono due esploratori e navigatori veneziani, padre e figlio, qui c'è scritto fratelli quindi per errore insomma, si tratta di Giovanni, padre e Sebastiano figlio che nel 1497 tentano di superare il continente americano non come Magellano passando a sud, ma da nord, cioè attraverso il Nord America e quindi andranno a scoprire la Groenlandia, andranno a scoprire il Canada e dopo di loro ci sarà un altro esploratore italiano, Giovanni da Verrazzano, che nel 1524 invece giungerà nel nord dell'America, qui lo vediamo nel viaggio in rosso, andrà a scoprire quella che è la zona dell'attuale Baia di New York, per conto questa volta della corona francese. In Inghilterra era stato Enrico VII il primo dei Tudor a finanziare questa spedizione di Caboto, del padre e figlio di Giovanni Caboto, mentre invece la spedizione di Giovanni da Verrazzano era stata voluta da Francesco I, re di Francia. Quindi sono esploratori italiani, che questo insomma lo vogliamo riconoscere, che viaggiano verso le Americhe ma sono finanziati dalle potenze europee, l'Inghilterra e la Francia. Ecco, oggi concludiamo qui questo discorso sui viaggi di esplorazione, mentre la prossima volta andremo a vedere che cosa succede nel momento in cui l'Europa viene a contatto con questo nuovo continente. Quindi che cosa succede con l'arrivo degli spagnoli in America, quelle che erano le civiltà che si trovavano già in America, perché abbiamo detto che era stata scoperta nel 10-20.000 a.C., l'America in realtà, e quindi quella che noi chiamiamo scoperta dell'America è soltanto la scoperta da parte dell'Europa di un nuovo continente che però era comunque già abitato da altre popolazioni che erano tutt'altro che selvagge da molti punti di vista. Quindi ne parleremo poi nella prossima lezione.